buongiorno ben trovati dal vostro veterano del fantacalcio una puntata legata al tema del mondiale del fantamondiale parliamo oggi di una delle favorite al mondiale parliamo dell'argentina e il brasile è quotato a 5 50 come vittoria definitiva del mondiale la francia a 7 l'inghilterra a 7 e mezzo poi c'è l'argentina a otto la spagna 9 la germania 10 e poi belgio e portogallo a 15 quindi quarta in posizione come potenziale vincitrice secondo i bookmakers l'argentina ma l'argentina è sicuramente una nazionale è veramente di alto livello per quanto riguarda il mondiale l'argentina attualmente è terza nel ranking fifa con 1770 punti messi detiene il record di presenze 164 e anche di gol 90 messi con la nazione argentina attualmente l'argentina conta 45 milioni di abitanti e la capitale ovviamente buenos aires dall argentina sono sempre arrivati buonissimi giocatori in europa e anche soprattutto in italia in italia infatti giocano veramente calciatori di grande importanza attualmente c'è l'autaro martinez c'è di bala c'è musso c'è di maria c'è nico gonzalez paredes correa perez martinez quarta ma anche alcune vecchie conoscenze come romero depoli papo gomez e molina ex udinese quindi sicuramente una nazionale da seguire con grande grande attenzione attualmente l'allenatore e scaloni e questa nazionale e ballena da poco più di due anni il suo modulo più utilizzato il 4 3 3 per via delle grandi ali ed essere in attacco che ha a disposizione nella squadra a un bilancio notevole di punti per partita pari a 2,28 37 vittorie 12 pareggi 5 sconfitte solamente la nazionale ha segnato 108 gol ha subito solamente 33 dimostrando una grande propensione all'attacco ma anche una difesa altrettanto solida la propria informazione dell'argentina potrebbe essere così schierata martinez importa montiel oppure molina destra rotamengi romero alcuni o tagliafico a sinistra l'occesso rodriguez e depol in mezzo al campo messi con l'autaro martinez e di maria sarebbero le punte d'attacco i consigliati ve ne sono parecchi secondo me romero ottamente in difesa sono i più consigliati poi molina subito dopo un po come outsider a centrocampo chiaramente l'occesso ma anche depol che appunto sarà un depol diverso rispetto a quello di madrid in attacco ovviamente messi e lautaro ma senza dimenticare un certo di maria palmarès dell'argentina a 15 coppa america complessivamente quindi tantissime record insieme all'uruguay ha conquistato due coppie del mondo nel 78 in casa e appunto argentina 78 e poi a messico 86 e andiamo avanti cerchiamo di capire quali sono le alternative appunto alla nazionale argentina e per quanto riguarda appunto l'attacco ha sempre in banchina giocatori molto interessanti di vada verificare però solamente chiaramente il discorso legato alla sua presenza post infortunio roma appunto l'infortunio ha una lesione muscolare da capire esattamente i tempi di recupero si parla da 48 settimane poi il ranking per questi giocatori dell'argentina sono veramente interessanti i rating sofascore il più alto di tutti è messi che ha un rating sofascore con l'argentina pari a 7.79 segui depol distaccato di parecchio 7.28 lo celso 7.27 l'autoro martinez 7.21 il portiere martinez 7.18 tamenji 7.16 romero 7.10 così come molina a un 7.00 di maria 6.99 e nico gonzalez 6.97 quindi premiati molto anche gli esterni d'attacco sicuramente loro saranno giocatori interessanti di andare a recuperare per quanto riguarda appunto il fanta calcio e fanta mondiale in panchina ci sono giocatori interessanti si parla appunto di mccallister si parla di leandro parede si parla di dibala da riconformare appunto anche i tempi di recupero correa nico gonzalez e giulian alvarez questi sono giocatori di sicuro interesse per quanto riguarda appunto la nazionale argentina giocatori interessanti ve ne sono molti chiaramente non stiamo qui a conoscere certamente ora però appunto sugli fanta mondiali devo assolutamente riaggiornarci appena avremo notizie più efficienti e efficaci appunto delle piattaforme che faranno il fanta mondiale vi aspetto presto con questa nuova rubrica legata a fanta mondiale spero che questo video vi sia piaciuto e a presto dal veterano ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti